Ciao a tutti e bentornati a Pidole di Storia. È tempo di riprendere la nostra serie sui Balcani, l'avete chiesto in tantissimi, non so se per origine o perché veramente interessati, ma oggi passiamo a parlare dell'Albania. Passiamo a parlare dell'Albania nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, un periodo che come sapete ci tocca di prima persona, anche a noi italiani, perché a tutti gli effetti l'Albania entra nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi dal 1 settembre del 1939, come parte del Regno d'Italia, come parte del nostro Stato, in una unione personale sotto il sovrano Vittorio Emanuele III. Quella dell'Albania è una storia che esattamente come quella degli altri stati balcanici è molto complicata, perché è fatta di lotta contro gli invasori, è fatta di governi collaborazionisti, è fatta di lotta tra vari movimenti partigiani come idee diverse, che esattamente come in altre zone dei Balcani porteranno appunto a una sorta di piccola guerra civile. Quale sarà il risultato e come si è originata? Ovviamente ne parliamo in questa puntata. Ovviamente per poter capire appieno questa puntata è necessario avere visto la scorsa, non la scorsa della serie balcanica, quella dedicata alla Grecia, che ovviamente comunque vi consiglio, quanto piuttosto la scorsa dedicata all'Albania tra le due guerre. Se volete fare proprio tutto il gruppo albanese, partendo dalle rivolte per poi passare il periodo tra le due guerre e poi arrivare a questa. Le trovate tutte in descrizione nella playlist proprio dedicata ai Balcani dal XIX al XX secolo. Ad ogni modo, l'Albania nel 1939, quando inizia questa parte del nostro racconto, è governata da un uomo, Zog, re Zog I, un uomo che è stato prima ribelle, poi dittatore, primo ministro, poi dittatore, e ora è invece diventato a tutti gli effetti il sovrano dell'Albania, pur avendo mantenuto gli stessi poteri che aveva quando era un dittatore. Questa situazione non piaceva moltissimo al di là dell'Adriatico all'Italia. L'Italia a tutti gli effetti aveva sviluppato sin da prima della Prima Guerra Mondiale un forte interessamento verso l'Albania. Un forte interessamento verso l'Albania che era stato inizialmente strategico, dopo tutto l'Albania si trova subito al di là del canale d'Otranto, e poi era rapidamente diventato economico, con gran parte dell'economia albanese che, in un modo o nell'altro, dipendeva da quella italiana. Pensate che addirittura un terzo delle esportazioni albanesi erano rivolte direttamente verso l'Italia, ma in un interscambio continuo da una parte all'altra dell'Adriatico. Questa situazione aveva portato, nella Prima Guerra Mondiale, al tentativo da parte italiana di occupare una parte dell'Albania, in particolare Porto di Valona, tentativo che era temporaneamente fallito, ma che aveva lasciato ovviamente forti interessi italiani nell'area. Forti interessi che Mussolini, salito al potere, aveva cercato di rinfocolare, convinto com'era che, in un modo o nell'altro, l'Italia sarebbe riuscita a ottenere l'Albania semplicemente investendoci sopra dal punto di vista economico e politico. Per farlo, l'Italia aveva negli anni non solo investito dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista militare, inviando dei propri rappresentanti militari ad armare, ma soprattutto ad addestrare, le piccole forze militari albanesi. Zogg, però, non aveva nessuna intenzione di cedere il proprio trono, e la cosa, ovviamente, aveva creato una situazione di stallo, perché in una società mondiale ancora in parte governata dalla Società delle Nazioni, ovviamente questo aveva impedito qualunque colpo di mano da parte degli italiani. Tra 1938 e il 1939, però, le cose erano cambiate dal punto di vista politico. Vabbè, intanto l'Italia era stata cacciata dalla Società delle Nazioni, ma questo nel 1936, dopo l'invasione dell'Etiopia. Ma soprattutto Hitler e la Germania avevano riscritto le regole del gioco, perché con l'occupazione della Cecoslovacchia, della Bohemia, la formazione della Slovacchia, a tutti gli effetti Hitler aveva dimostrato di poter procedere a delle occupazioni anche senza che ci fosse la concordanza da parte delle potenze, senza che questo desse grossi risultati. Per questo Mussolini, che peraltro riteneva quell'occupazione fatta senza informare Roma, che formalmente era alleata dei tedeschi, anche uno sgarbo personale, così Mussolini aveva deciso di attuare una medesima operazione, un medesimo intervento, questa volta ai danni dell'Albania. L'operazione era stata preparata un po' in fretta e furia, tanto che il 25 marzo del 1939 era stato mandato un durissimo ultimatum direttamente a Zogg, il quale, ultimatum, che a tutti gli effetti offriva a Zogg una buona quantità di denaro in cambio dell'abbandono del trono, o meglio della concessione del trono, proprio a Vittorio Emanuele III, re d'Italia, che avrebbe dovuto così unire le due corone e unire le due nazioni. Zogg aveva però rifiutato, aveva però rifiutato e non si era detto interessato, non solo, ma aveva cercato di tenere la notizia nascosta, senza diffonderla in Albania e senza farla circolare, coprendola peraltro con la nascita del suo primo figlio maschio, nonché potenziale erede. Gli italiani però ovviamente non si erano fermati. Il 7 aprile del 1939, infatti, era stata lanciata l'occupazione, un'occupazione che sulla carta avrebbe dovuto smuovere una quantità di truppe enormi, si parlava di 100.000 uomini, 50 navi da guerra, 400 aerei, ma anche in realtà, dovendolo organizzare un po' in fretta e furia, mosse una massa di uomini decisamente più bassa, appena 22.000. I comandanti italiani decisero di sbarcare in contemporanea in tutti i porti, per cercare di accelerare il più possibile le operazioni, cosa che sulla carta avrebbe dovuto favorire la resistenza dell'esercito albanese. C'era un ma. L'esercito albanese, a tutti gli effetti, quasi completamente si sciolse come neve al sole. Inizialmente Zogg aveva deciso addirittura di abbandonare le città principali, ma di ritirarsi in montagna e qui organizzare una resistenza. Ma quando si era reso conto che il grosso delle sue unità si era dato alla fuga, che molti dei suoi ufficiali, peraltro formati in Italia, avevano disertato, che addirittura la maggior parte dell'artiglieria a disposizione dell'esercito era stata danneggiata e non si poteva più utilizzare, Zogg, il pomeriggio stesso del 7 aprile, decise di darsi alla fuga. Insieme alla moglie, la regina, insieme al giovane principe e soprattutto insieme a una buona parte dell'oro della banca centrale d'Albania. Cosa che ovviamente scatenò polemiche e soprattutto scontri nella parte avversa proprio contro Zogg. Lo sbarco italiano non fu comunque del tutto incontrastato. Alcune unità dell'esercito, unitesi a forze di resistenza, cercarono di contrastarlo e nei giorni successivi, l'occupazione terminerà il 12 di aprile, nei giorni successivi ci furono alcuni scontri che costarono, secondo gli albanesi, 400-500 morti agli italiani, secondo le fonti italiane, meno di un quarto, ma che in ogni modo dimostrano che l'occupazione non era stata del tutto indolore e che nonostante quello che raccontavano i cinegiornali, a tutti gli effetti l'Albania non fosse così felice dell'occupazione italiana. Come venne gestita l'Albania? Beh, venne gestita in maniera molto semplice. Il sovrano Vittorio Emanuele III, come dicevo, ricevette la corona d'Albania in una cerimonia alquirinale e incaricò di rappresentarlo come suo luogotenente, a tutti gli effetti un vicere, quello che fino a quel momento era stato l'ambasciatore italiano in Albania. Mentre dall'altra parte i fascisti decisero di organizzare un governo fantoccio, ma soprattutto di far nascere, su indicazione di Ciano e di Balbo, un partito fascista d'Albania, che sulla carta avrebbe dovuto fornire una giustificazione formale all'esistenza proprio di questo governo collaborazionista albanese. Come dicevo però, la maggior parte degli albanesi non era così favorevole all'occupazione italiana, e per questo gli italiani decisero di lavorare su due fronti per cercare di migliorare le proprie relazioni. Il primo fronte fu quello economico. Mussolini, il fascismo, spinse molto affinché le aziende italiane andassero ad investire in Albania. Venne pagato molto denaro, in parte per alleviare le condizioni di vita di un paese che comunque dal punto di vista economico era a terra, era uno dei paesi, se non il paese più povero d'Europa, con più del 90% della popolazione impegnata in un'agricoltura che anch'essa era decisamente molto arretrata rispetto a quella del resto d'Europa, quindi immaginatevi le condizioni, dall'altra invece cercando di spingere sul nazionalismo albanese, cercando di sollevare negli albanesi la proposta, la promessa, che un giorno avrebbero potuto riunirsi con quelle terre considerate irredente, cioè con la parte nord dell'attuale Grecia, ma soprattutto con il Kosovo che faceva parte invece del regno di Jugoslavia. Questi aiuti e queste promesse in parte, in parte, in piccola parte, iniziarono ad avvicinare la popolazione albanese agli italiani, che però, nonostante questo, dovettero continuare a mantenere una forte presenza militare nel paese per assicurare la stabilità. Ovviamente in quegli anni sorsero anche i primi movimenti di resistenza, che però all'inizio avevano poco potere, ma soprattutto avevano poche possibilità di esprimersi, anche perché il regno e prima la dittatura di Zog avevano a tutti gli effetti bloccato e molto spesso imprigionato, oppure esiliato, la maggior parte dei capi di questi movimenti, tra cui, ad esempio, i capi del Partito Comunista Albanese, che all'epoca era un piccolo partito, che non era riuscito a prendere particolare piede, anche perché l'Albania non aveva un proletariato su cui andare a lavorare, e che, in effetti, erano quasi tutti esiliati all'estero e rientreranno proprio, in questi anni, tra inizio del 1940 e del 1941, in Albania per organizzare una forma di resistenza. Inizialmente, una parte degli albanesi accettò, però, come diceva, il proclama italiano, tanto che quando l'Italia, nel 1940, dichiarò guerra alla Grecia, abbiamo parlato nella puntata scorsa, nella serie dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, andate a vedere quelle parti, inizialmente ci furono anche dei corpi militari albanesi che parteciparono allo scontro. Quando, però, l'avanzata italiana venne arrestata, i greci contrattaccarono e addirittura occuparono la parte meridionale dell'Albania, gran parte di quegli armati disertarono, tennero le armi per sé e scapparono in montagna, divenendo, a tutti gli effetti, dei reticenti alla leva, iniziando ad avere dei piccoli scontri con le armate italiane, che ovviamente cercavano di obbligare a tornare a combattere, e, a tutti gli effetti, iniziando un vero e proprio movimento partigiano. Questo movimento partigiano, però, crebbe solamente dal 1941-1942, in poi, quando tre formazioni principali si affermarono in Albania. Queste tre formazioni avevano tre posizioni politiche diverse, ma anche idee molto diverse su quale dovesse essere l'organizzazione dell'Albania post-guerra, e almeno inizialmente l'unico punto su cui andavano tutti d'accordo era la necessità di cacciare gli italiani dall'Albania. Quello che fin da subito si affermò come il più numeroso era la cosiddetta Armata Esercito di Liberazione Nazionale, un gruppo politico che, anche se sulla carta era composto da varie formazioni di sinistra, a tutti gli effetti era governato dal Partito Comunista di Albania, il quale a sua volta era controllato da due comunisti, due comunisti molto diversi. Da una parte, infatti, c'era un ex studente, un studente di scienze politiche che aveva studiato in Francia, a cui era entrato a contatto con le idee comuniste, ed era rientrato proprio per aiutare il partito, che si chiamava Enver Oxa, e che per intenderci sarà finita la guerra, colui che prenderà a tutti gli effetti il potere in Albania e lo controllerà per più di 40 anni. Il secondo si chiamava invece Toshu, ed era un comunista, anche egli albanese, che aveva invece una formazione maggiormente militare, tanto che aveva partecipato come volontario nelle brigate garibaldine durante la guerra civile in Spagna. Questi due, molto rapidamente, scalzarono quella prima intelligenza di partito che si era formata tornando dall'Unione Sovietica, e ben presto divennero a tutti gli effetti i dominatori dell'esercito di liberazione nazionale, che divenne ben presto non solo quello più diffuso, ma anche quello con i migliori collegamenti internazionali, grazie a un rapporto molto stretto con le forze partigiane, quelle di Tito per intenderci, che invece operavano in territorio giugoslavo, con cui collaboravano, e soprattutto con cui molto spesso si scambiavano non solo informazioni, ma anche armi. Come detto però, questo non era l'unico movimento. Ne esisteva un altro, che invece era, diciamo, di tipo nazionalista. Si chiamava Balli con Betai, che vuol dire fronte nazionale, vi dico il nome originale perché normalmente vengono chiamati i ballisti, e aveva un'ispirazione anticomunista, di destra, che voleva però non la restaurazione del re, di Zog, ma bensì l'instaurazione di una repubblica d'Albania. A differenza dei comunisti, che anche in accordo con i jugoslavi, credevano che la nuova Jugoslavia sarebbe dovuta rinascere negli stessi territori che l'Albania aveva, che lo scuso, la nuova Albania negli stessi territori che l'Albania aveva controllato fino alla Seconda Guerra Mondiale, i ballisti invece avevano delle idee diverse, cioè credevano che l'Albania avrebbe dovuto ottenere alla fine della guerra quei territori che rivendicava per mantenere quella grande Albania che era stata creata proprio dagli italiani, integrando il Kosovo, integrando il nord della Grecia. A tutti gli effetti era proprio in queste zone che Balli con Betai aveva il suo nucleo principale, dove il fronte nazionale aveva il suo nucleo principale e da cui proveniva la maggior parte delle sue reclute. Esisteva poi un terzo movimento chiamato Legalitei e che era un movimento di tipo monarchico, che avrebbe voluto restaurare Zog, che almeno inizialmente era quello che gli alleati avevano appoggiato, a cui avevano fornito armi aiuto, ma che in realtà divenne molto rapidamente minoritario, con pochissimi affiliati, pochissimo potere, tanto che all'inizio del 1943 gli alleati passarono da supportare questo al supportare piuttosto gli altri due, riconoscendo la necessità che comunisti da una parte e nazionalisti dall'altra si unissero fra di loro per creare un fronte comune. In realtà questo fronte comune almeno inizialmente non ci fu, ma entrambe le formazioni militari iniziarono a collaborare, se non proprio formalmente, per cercare di scacciare gli italiani invasori. E nel farlo, in effetti, progressivamente riuscirono tra il 1941 e il 1942 a prendere progressivamente il controllo di vaste zone del paese, sia nella parte meridionale che nella parte settentrionale, in particolare concentrandosi intorno alle zone più montuose. In queste zone, in effetti, ben presto i partigiani iniziarono a prendere pieno controllo, riuscendo addirittura ad attaccare dei posti isolati, controllati dall'esercito italiano, e molto spesso a rifornirsi di armi proprio direttamente dagli italiani, che venivano sconfitti, le loro armerie depredate, e questo forniva nuove armi ai ribelli. Nel gennaio del 1943 i due partiti, i due movimenti, iniziarono a cooperare in maniera sempre più stretta. Nel marzo firmarono un primo accordo e per la prima volta iniziarono a combattere le loro battaglie insieme, unendo le forze, potendo così attaccare gruppi sempre maggiori di soldati italiani, fino a quando, tra il primo e il 3 agosto del 1943, a Mecchie, non firmarono direttamente un accordo ufficiale, che sanciva una spartizione dei poteri dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e decideva, per un accordo, un cessato il fuoco fra le due fazioni e una cooperazione proprio fino alla fine della guerra. L'accordo di Mecchie, che era stato fortemente voluto dagli alleati, però durò pochissimo, perché in effetti da quell'accordo uscì un documento che mise in forte imbarazzo i comunisti, perché Balli con Betara aveva chiesto che l'Albania, che doveva nascere alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mantenesse proprio il Kosovo, che invece i comunisti si erano accordati per restituire alla Jugoslavia. E' talmente poco considerato che nel dopoguerra passò, venne fatto passare dalla nuova dittatura comunista come una vera e propria trappola fatta dai nazionalisti ai danni dei comunisti, ma che di certo peggiorò rapidamente le relazioni tra il movimento comunista albanese e quello jugoslavo. A questo punto, dovendo decidere tra avere l'appoggio dei nazionalisti o avere l'appoggio dei loro compagni jugoslavi, i comunisti albanesi scelsero quest'ultimi e così denunciarono l'accordo e le due formazioni tornarono a separarsi. Le cose però stavano cambiando. Agosto del 1943. Un mese dopo, l'8 settembre del 1943, ovviamente venne firmato l'armistizio tra l'Italia e gli alleati e la cosa rimbalzò anche in Albania, dove in effetti i tedeschi, che probabilmente come già successo in Italia, immaginavano che potesse succedere qualcosa del genere, avevano già iniziato a trasferire truppe in loco e progressivamente, con la scusa di voler proteggere l'Albania ad un eventuale sbarco, a prendere il controllo delle principali installazioni militari e aeroportuali del paese. Il risultato fu che l'8 settembre le forze italiane vennero molto rapidamente sconfitte da quelle tedesche. Una parte venne catturata, qualcuno riuscì a fuggire e una parte invece di quelle forze decisero di unirsi alla resistenza albanese, dividendosi tra le due formazioni, principalmente unendosi a quella comunista e partecipando da questo momento in poi proprio allo sforzo militare della resistenza. Il problema è che dall'8 settembre del 43 la resistenza cambiò aspetto. Le formazioni nazionaliste, infatti, i balli decisero che anche dopo aver sentito gli alleati che in effetti avevano confermato loro che la loro volontà non era quella di lasciare il Kosovo all'Albania finita la guerra, le formazioni nazionaliste decisero che se non potevano ottenere quello che volevano l'unico modo per poterlo fare, per poter salvare l'Albania dall'occupazione comunista era quello di accordarsi con i tedeschi e così fecero perché dopo la presa del controllo da parte della Germania che creò un nuovo stato fantoccio in Albania slegandolo ovviamente da proprio dominio e da quello italiano le formazioni nazionaliste iniziarono a collaborare con i tedeschi e insieme a loro non solo combatterono i partigiani comunisti in Albania ma addirittura parteciparono a delle operazioni contro i partigiani comunisti in Jugoslavia con appunto il tentativo di mantenere in questo modo il controllo su tutti i territori albanesi questo tentativo fu ovviamente un errore alla fine del 43 la Germania stava già progressivamente perdendo la guerra e il fatto di essersi schierati in maniera così aperta verso i tedeschi spinse anche gli alleati ad abbandonarli a scaricarli definitivamente e a iniziare a rifornire di armi i loro oppositori cioè ovviamente i partigiani comunisti guidati da Enver OXA il risultato fu che seppur all'inizio del 1944 le forze contro ribelli diciamo le forze nazionaliste iniziarono progressivamente grazie all'appoggio delle forze tedesche a sconfiggere e a rioccupare gran parte del paese dalla fine non riuscirono a sconfiggere le forze comuniste e queste man mano che la Germania ritirava le sue forze tornarono a farsi sotto a riconquistare progressivamente il paese e a scacciarne non solo le forze tedesche ma anche le forze nazionaliste il culmine di questa guerra avvenne il 17 novembre del 1944 quando le forze comuniste dopo aver ripreso il controllo di gran parte della zona centrale del paese si diressero verso Tirana e qui proprio il 17 novembre dopo una ventina di giorni di combattimento riuscirono a riconquistare la città strappandola alle forze nazionaliste ma anche le ultime forze tedesche che ancora si dovevano ritirare praticamente peraltro una dei pochissimi stati che poi finirà nell'orbita comunista a liberarsi completamente da sé prima dell'arrivo dell'armata rossa anche se c'è da dire che in effetti i tedeschi stavano già ritirando le loro forze dalla Grecia e dall'Albania cercando di ritirarsi verso la Germania attraverso la Jugoslavia proprio di fronte all'avanzata dell'armata rossa questa presa di potere da parte dei comunisti non potè che essere ovviamente approvata anche dagli alleati spingendo in questo modo l'Albania definitivamente in direzione di Mosca il nuovo governo comunista molto rapidamente cercò di disfarsi di tutti coloro che erano stati in opposizione sia tra le forze collaborazioniste sia tra quelle nazionaliste a cui non venne riconosciuto lo status di combattenti neanche per la prima parte della guerra e i cui capi dovettero molto rapidamente fuggire peraltro aiuta neanche aiutati dagli alleati che a loro volta non li riconoscevano come combattenti oppure essere catturati e essere uccisi cosa che successe anche ai partigiani di fede monarchica molto rapidamente Ocsa instaurerà una dittatura personale che trasformerà l'Albania in un paese comunista che ve lo ne parleremo poi in una delle prossime puntate rimarrà per molto tempo legata a Mosca anche dopo lo strappo attuato dalla Jugoslavia ma non sarà così fino agli anni 90 ma ripeto di questo ne parleremo in una puntata successiva quello che vorrei farvi passare è come anche in Albania esattamente come in Grecia come vedremo anche da altre parti la seconda guerra mondiale e come dico sempre volendo anche in Italia la seconda guerra mondiale funse anche da regolamento di conti tra idee politiche diverse idee politiche che erano state spente quando Zoga aveva preso il potere instaurando una dittatura ma che erano tornate a bruciare quando la seconda guerra mondiale aveva creato il caos tornate a bruciare creando e installando in Albania così come in altre nazioni una guerra civile all'interno di una guerra di liberazione da un conquistatore che era prima l'Italia e poi ovviamente la Germania nonostante questo ovviamente una connessione politica e economica con l'Italia rimarrà negli anni e rimane ancora adesso io mi fermo qua come dico sempre queste pidole dedicate alla seconda guerra mondiale nei Balcani sono molto riassuntive quello che voglio far ripassare è il discorso di fondo ci sarebbe tantissimo anche qui di a cui approfondire ci furono delle vere e proprie battaglie tra gli italiani e i partigiani albanesi quindi ci sarebbe ancora tanto da approfondire ma lo lasceremo magari a pillole in futuro spero però di essere riuscito a raccontarvi quello che mi interessa il quadro generale spero che vi sia piaciuta se volete vedervi quelle vecchie di questa ormai lunga serie sui Balcani la trovate in descrizione se non volete perdervi le prossime iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati e per il resto io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista era la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao